Partiamo dal presupposto che abbiamo a che fare con una delle vere e proprie rivoluzioni nel mondo della salute, del benessere e della prevenzione. E mi rendo conto che in tutti questi 4-5 anni di divulgazione, adesso siamo passati dal dubbio alla curiosità fino a dire wow, ma allora avevate ragione. E questo penso che sia una grande soddisfazione anche per chi alla fine ha scelto di far parte di questa grande famiglia e questo progetto straordinario. Guardate, proprio oggi mi hanno contattato il presidente e mi ha detto che il Belgio, la Francia e altre nazioni stanno chiedendo se vado a fargli la formazione a loro su quello che facciamo noi. Quindi pensate che no, che soddisfazione, vuol dire che ci stanno guardando. È un'altra conferma meravigliosa perché questo è accaduto 24 anni fa col self-food, facevamo storia e ci hanno chiamato anche in Cina a fare convegni, conferenze, seminari, corsi, pensate. E tutto il mondo poi usa le nostre ricerche scientifiche. Quindi molto bello. Se mi permettete c'è da fare gli auguri di compleanno a qualcuno, a quanto so. E quindi voglio fare gli auguri al dottor Leonardo Crippa che oggi compie gli anni. Buon compleanno dottore. Buon compleanno. Allora, iniziamo questo corso cercando di entrare nell'ottica di quello che abbiamo a disposizione. Cioè, noi non è che possiamo pensare di dire... Abbiamo il test, a volte vedo scritto, ma anche noi all'inizio sbagliavamo, quindi si impara strada facendo. Però vi devo dire che il termine test epigenetico non è corretto. Cioè, se noi vogliamo dire alle persone, dire in maniera e parlare in modo corretto, per non essere attaccati, criticati, solite gente che tanto... Poi è la noi, per semplificare diciamo test epigenetico, ma non va bene, perché dovremmo dire test dei fattori epigenetici di interferenza, oppure test dei fattori nutrizionali che possono essere utili alla salute delle persone. Ora, noi sappiamo una cosa. Sappiamo che voi medici, professionisti, io ci mancherebbe che sono qua a dirvi cosa fare a voi, o insegnare a voi, o insegnare a voi, o insegnare a voi, o insegnare a voi. Io sto condividendo tutta l'esperienza di questi anni e sapete che quando noi abbiamo a che fare con centinaia di persone e ho centinaia di centri, ormai siamo 300 centri in Italia, e tanti congressi, conferenze, seminari, vedo centinaia, poi i feedback che ho dai collaboratori, capisco che ci sono delle cose che sono importanti da trasmettervi, da condividere anche con voi. Questa esperienza mi ha portato a dire, ok, tutti noi consigliamo le analisi del sangue, che sono importantissime per fare una diagnosi, ma è chiaro che una lasi del sangue la può prescrivere un medico, non è che la possono prescrivere tutti, oppure uno per scelta si va a fare l'asi del sangue. Però poi quelle analisi devono essere interpretate. Ora, quando comunque che siano analisi del sangue, che siano esami di qualsiasi tipo, anche del DNA, oppure del microbiota, oppure della saliva, prendete quello che volete. Stress ossidativo, infiammazione. Voi avete un dato, avete un numero, e quel numero vi dice se quella persona è nel range o fuori dal range. Giusto? Siete d'accordo? Il mio ragionamento va oltre. dice che tutti i medici sanno che comunque quando c'è un problema fuori dalla norma devo intervenire, quindi gli darà una terapia o una dieta, farà qualcosa. Il problema, sapete qual è? Che non sa la causa. Qual è la causa dello stress ossidativo, dell'infiammazione, del mal di testa, oppure del colesterolo, oppure di tante problematiche che possono uscire durante l'analisi e poi dalle varie analisi. Cosa ne sa? Cioè, faccio un esempio. Se lo stress ossidativo è la concausa dello squilibrio e della modulazione, poi anche lì ormai siamo andati avanti, perché sapete che la modulazione redox oggi è, hanno fatto delle scoperte straordinarie e non si può più parlare di antiossidanti contro i radicali liberi. Insomma, bisogna avere un equilibrio anche in questo senso, perché non si può più parlare di bloccare il sistema antiossidante. Cioè, si è scoperto che i radicali liberi sono importantissimi per le nostre difese, accendono, spengono. Quindi tutto viene regolato dalla modulazione redox. Anche la vita. Allora, se noi abbiamo un dato, quel dato che ci viene fuori da qualsiasi tipo di analisi, la domanda è, ma tu conosci le cause? E qual è la causa? Oggi invece, grazie a questo straordinario strumento, dispositivo di screening, non facciamo diagnosi, ma quantomeno hai un quadro di possibilità di indirizzo su quello che potrebbero essere le cause di quell'esame, oppure avere delle indicazioni così interessanti che ti possano permettere di approfondire attraverso un ulteriore esame. Faccio l'esempio della modifica dell'MTHFR che molti medici che utilizzano S-Drive stanno utilizzando come approfondimento, perché gli fanno l'S-Drive e poi vanno a vedere che c'è un problema legato alla metilazione. Faccio un esempio, guardando le carenze di B9, B6, B12, metionina, il campanello di allarme che vi deve sempre venire è c'è un problema di omocisteina? Alcuni vostri colleghi, addirittura, grazie proprio, ma anche lo stesso Bartolomeo Allegrini che ha detto se ce la facci raggiunge, mi ha detto, guarda, grazie a questo, oltre a tutto il discorso di post-virus, virosi, sono riuscito a vedere un problema di modificazione MTHFR perché poi ho fatto fare a approfondire con l'omocisteina, c'è l'omocisteina a 58 un paziente, pensate, no? Quindi S-Drive è proprio uno strumento di collegamento tra l'anammesi e le cause del problema, senza fare diagnosi, non è strumento di diagnosi, mi raccomando. E questa cosa che io vi ho detto all'inizio, cioè attenzione a parlare di test epigenetici. S-Drive è un test dei fattori epigenetici di interferenza. È un fattore in grado di mappare le varie carenze individuali della persona a livello intracellulare, a livello intracellulare, tessutale. Poi, altra cosa che viene unuta fuori in tutti questi anni, ho anche dei documenti bellissimi, che se mi fate richiesta ve li passo. Comunque in quel file, in quelle mail che io ho mandato, quel link con tutti i file, se avete il tempo di addormentarvi, mentre ne aprite uno, guardate uno, perché concilia il sonno con tutto il materiale che c'è, ricordatevi che lì ci sono tante informazioni anche risposte al fatto delle domande è duplicabile, è paragonabile. Come si fa a paragonare a cosa? La domanda è paragonare a cosa? Come fai a paragonare un test sul bulbo del capello che prende tutte le informazioni dei tessuti, del sangue e guarda a livello intracellulare come fai a paragonarlo all'esame del sangue? Non c'entra assolutamente niente. Ma S-Drive non serve a quello. S-Drive serve a correlare, questo è importante, a correlare le informazioni che tu ricevi con la clinica della persona, la clinica. Allora lì sì, di fatti ogni volta che voi fate un esame S-Drive e lo correlate anche proprio avete visto i vari corsi che si sta facendo il grande Marcos che sarà a Milano proprio il 18 noi. Aspetta che rispondo, il link non funziona. Sì che funziona. sì che funziona. Lui ci ha proprio detto attenzione S-Drive proprio ci ci dà questo quadro e ci permette di ragionare sul fatto che noi abbiamo un mosaico, abbiamo un quadro di informazioni che nessun altro test al mondo è in grado di darci. Perché in 12 minuti come dico sempre è impossibile avere tutte queste informazioni. Allora in base ai segnali che hai voi le utilizzerete per correlarle alla clinica e lui cosa dice sempre quando interpreta io non conosco chi è non conosco a volte neanche se è maschio o femmina a volte la fa poi la domanda però in effetti in effetti S-Drive ti permette di risalire al problema perché ogni vitamina ogni minerale ogni aminoacido ogni situazione di impatto ambientale crea un problema uno squilibrio ogni carenza e adesso poi andremo nel vivo per farvi così per farvi capire due o tre cose però è molto importante arrivare a questa conclusione della semplicità proprio l'ultima giornata della scuola di alta formazione il il grande allora vi dico che alle nove e mezzo arriva Bartolomeo alle grini il grande la grande possibilità che noi possiamo proprio proprio avere è quella di non solo correrà la clinica ma mettere insieme quelle informazioni legate a quello che ci dice la persona e risalire ai vari disturbi disfunzioni cellulari mitocondriali carenze nutrizionali che proprio guarda caso hanno un ruolo specifico nella fase clima è chiaro che per fare questo dobbiamo metterci in contatto con il ruolo di vitamine minerali quindi andare ad approfondire questo il ruolo di queste vitamine di questi minerali andando a consultare tutti i libri che avete a disposizione gli articoli che noi vi mandiamo il materiale che condividiamo l'elenco e il ruolo di ogni vitamina di ogni minerale avete a disposizione tutto però per risalire all'interpretazione di S-Drive del report bisogna andare a leggerci queste informazioni ancora facendo la premessa prima di iniziare il corso dico è inutile che noi il grande Bartolomeo Allegrini è molto disponibile ma non può farcela a direi rispondere a oltre 200 300 centri S-Drive che gli chiedono qualcosa io dico iniziate voi a interpretare il report S-Drive in modo semplice Marco si ha detto iniziate dalle basi e le basi sono quello che dice il report ed è semplice se lo faccio io che sono l'ultimo dei dei poicani lo può fare chiunque perché voi avete una formazione diecimila volte più della mia avete titoli avete tutto io non ho niente non sono nessuno quindi se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi allora proviamo a entrare nella nell'interpretazione prima però voglio farvi vedere le basi di come si deve fare quando si fa un test questo è fondamentale io vedo purtroppo poca attenzione al fatto che il report non venga fatto la scansione nella maniera giusta cioè l'S drive deve essere a distanza di filo cioè se io prendo l'S drive deve essere a distanza di filo non vicino sopra a volte vedo qualcuno scusate si va beh lo metto sopra un libro sopra un però vicino all'acqua ai prodotti al telefonino non viene non viene pulito a volte non si pulisce tra un test io vedo di quelle cose che perdonatemi se ve le dico perché purtroppo le vedo e quindi ve le riporto non si fa volete un test come si deve anche a vista professionale questo è un dispositivo straordinario è chiaro che ha poche interferenze perché perché è come microfono unidirezionale quindi quando voi mettete il bulbo qui attaccato alla bobina S drive è chiaro che quando voi la chiudete lui fa la scansione siccome la scansione di questo spettro di frequenza che lui genera va in risonanza con un segnale fortissimo perché il segnale del bulbo del capello vibra a un livello molto alto ha una vibrazione altissima perché è ancora vivo quindi questa sua capacità di entrare in risonanza con l'informazione del bulbo del capello è straordinaria e non prende molte interferenze però state attenti che non ci sia magari il neon sopra che le persone si siano tolte tutti i gioielli gioiellini bracciali telefonini santini e e tutto collanine è fondamentale fare un test fatto bene a distanza di filo distanza di filo poi è chiaro che se voi riuscite a dire io faccio sempre così e tutti lo fanno perché alcune volte sento dire no ma io non posso mica dire a una persona di chiudere gli occhi ma se tu vai dentro una risonanza magnetica nucleare cosa fai? Chiudi gli occhi ti dicono tenga gli occhi chiusi se devi fare un esame alla testa cosa fai? Allora è fondamentale tenere gli occhi chiusi per quei 20 secondi state mettete la persona rilassata così occhi chiusi testa giù prendete il capello lo mettete lì e fate la scansione guardi io dico sempre e a me non mi dice mai niente nessuno io guardi per piacere gli dico sempre se lei tiene gli occhi chiusi viene meglio e chiudono gli occhi se lei tiene gli occhi chiusi è più preciso e chiudono gli occhi non è che gli devo spiegare poi dopo glielo dico se vuole perché gli occhi si devono chiudere perché se voi aprite gli occhi vedete un sacco di cose siete distratti e gli emisferi destra e sinistra non sono connessi quindi per avere per fare un test veramente fatto bene bisogna farlo come ci dice chi lo ha inventato se voi guardate il video di come si fa un test proprio vi dice di farlo e siccome io l'ho guardato tante volte lo seguo perché penso che chi ha inventato questo test sia una persona geniale e se dice una cosa vuol dire che c'è un motivo quindi questo è fondamentale allora tutti vedete il software alzate la mano ditemi sì se lo vedete il software lo vedete sì ok allora la gestione del software ormai lo sapete come si fa nuovo scrivete tutti i dati e fate poi posizionare la persona seduta e fate la scansione prendete i capelli e fate la scansione ok questi due vedete questi due invia promemoria email o invia report per email in modo automatico vi consiglio sempre di cliccare solo su invia promemoria email e poi fate sì perché se cliccate anche sopra arriva al paziente il report contemporaneamente quando arriva a voi e non va bene perché prima lo dovete interpretare poi se volete lo potete girare per girare il report lo sapete andate su report oppure andate su cronologia e sopra adesso lo vedremo e lo invia email allora io ho fatto nuovo se l'ho sbagliato vedete che qui c'è nuovo salvare cancellare se io clicco su cancellare è come se io non avessi fatto nessun niente quindi posso ritornare sempre alla posizione originale quindi all'inizio cliccando su cancellare altra cosa importante in questo giorni è arrivato fai un aggiornamento ricordatevi quando sdrive appena lo collegate al software vi chiede l'aggiornamento fate sempre clic se volete ricercare un aggiornamento andate qua e lui vi dice stai già utilizzando la versione più recente se vi chiede di fare l'aggiornamento cliccate sempre sì in due minuti vi aggiornate e poi riavviate il software fondamentale aggiornarlo sempre fondamentale aggiornare il computer Windows eh Windows 10 o 11 quello che avete però ricordate di aggiornare anche Windows ok altra cosa se voi qui digitate il vostro paziente eh qui su cronologia vedete ci sono i vari test che vengono fatti anch'io faccio il test se voi volete inviarlo basta che andate sopra a qualsiasi report in questo caso l'ultimo report report invia al paziente se volete potete cambiare le mail e mandarvela a voi basta fare così e manda potete andare qui vedete e mandarla info rimettete le mail eh chiocciola eccetera eccetera una volta che avete messo l'email fate invio scusate info chiocciola ip questa è l'email personale se qualcuno la vuole scrivermi questa è la mia email personale info chiocciola ip nutracel punto it così lo sapete io faccio ok rifaccio ok e lui me lo manda aspettate vedete che qui c'è in attesa aspettate che si illumini e si con la data la casella inviata se no non ve lo mando se voi adesso chiudete il computer non parte non esce se voi vi scollegate quindi attenzione aspettate vedete invio in corso vedete che tra poco viene fuori email inviata ok vedete email inviata alle 20.59 quindi anche questo è importantissimo volete ricercare una persona andate qua volete vedere quanti tutti i vostri persone tutti i test che avete fatto andate su report visualizzati se le avete visualizzati e questi sono tutti i test che io ho fatto qualche centinaio solo con questo computer pensate che ho cambiato tre computer pensate che nel 2017 avevo 2017 2018 in quell'anno e mezzo lì ho fatto 1800 test per lanciare questo progetto una cosa pazzesca pensate a un convegno medico a Roma ancora avevo il report in inglese ero lì da solo in una giornata 76 test da solo con la testa così un mal di schiena la sera mi hanno preso con la gru assurdo però vi dico tanto per dire quanti test che avevo fatto allora qui ricordatevi il report avete la possibilità di gestire i brosti report come volete qualcuno mi ha detto come posso fare se c'ho pazienti esteri o insomma clienti esteri vi consiglio di copiare il report sul desktop vedete qui c'è scritto copia il report sul desktop e lo copia adesso l'ho fatto poi lo cancellerò poi andate sempre sopra a quella persona e cosa fate se vi volete se magari avete paura di sbagliarvi fate così mettete qua se avete paura di sbagliare chiamate il paziente andate su cronologia e ce l'avete qui vedete qui col tasto destro del mouse o del computer report potete aprirlo copiarlo sul desktop mandarlo al cliente se invece volete tradurlo in questo caso devo andare dall'altra parte vado qui report visualizzato vado sopra traduci e scelgo la lingua che voglio perché me lo sono salvato sul desktop quindi ce l'ho sia in italiano che nella lingua che userò per tradurlo perché se non salvate quello in italiano poi non potete tornare indietro mi raccomando ok altra cosa da fare molto importante nella gestione è se volete esportare tutti i dati vedete qui sulla in alto c'è esportazione dati se voi cliccate su esportazione dati e fate ok tutti i test che avete fatto ve li metterà in una cartella di esportazione dati sul desktop e potete salvarveli ma non salvate i report i report sono salvati sulla cartella manutenzione che avete creato ricordatevi sempre di creare questa cartella backup automatico nel vostro desktop come si fa per i nuovi lo spiego andate su manutenzione seleziona la destinazione cerca vado su desktop vado crea nuova cartella naturalmente ora non la creo nuova cartella e la nomino vedete archivio s drive fate archivio s drive e ci andate sopra poi fate ok ricliccate su ok e qui avete la 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 destinazione dove salverà tutti i report che avete fatto quando chiudete il computer per far sì che lui salvi tutto dovete fleggare su questo quadratino quindi alla chiusura del software tutti i test che avete fatto in quell'ora quella giornata verranno salvati su quella cartella quella cartella se non volete perdere i report che vengono numerati numero uno due non col nome perché per la privacy non si può vengono numerati li potete salvare su un usb salvate la cartella su un usb per tenerlo se succede qualcosa al computer così li avete sulla vostra usb ci siamo chiaro nicola tutti è posto questa fase sì sto bene grazie allora tra poco si potrà ordinare i report direttamente sempre tramite il software dal nostro sito cioè voi andate su ordina prodotti andate sul software che è questo e qua invece che ci sarà sempre ordini cliccando su ricariche invece che andare su queste a comprare ci sarà un link di collegamento direttamente sul sito sul nostro sito sul nostro portale sdrive.it e quindi potete acquistare con le carte di credito ricordatevi che con le carte di credito solamente c'è tutto però i 10 più 1 20 più 3 non si possono pagare con con bonifico bancario tutto il resto sì ma i primi no ok avete capito ricariche ricariche andrà con quel clic su ricariche sul nostro sito dove dovrete essere registrati in maniera che vi si apra in maniera automatica e poi da lì potete acquistare e vi arriverà fattura italiana naturalmente più IVA ok altre cose qui alcuni mi dicono come faccio a vedere qua su vedete quando voi acquistate qualsiasi cosa che avete acquistato lo avete qui ok cioè su pagamenti su payment quindi tutte le fatture le potete scaricare qua qui avrete basta andare sul vostro software sul vostro portale sul vostro dashboard e qui troverete le vostre fatture dei test che avete acquistato o la fattura dell'S drive che avete acquistato se l'avete acquistata con pagamento estero naturalmente se no la nostra fattura ce l'avete direttamente da noi siamo tantissimi perché siamo più di 300 qualcuno tanto per farvi vedere ma siamo veramente tanti faccio vedere quanti siamo così lo sapete in tutta Italia siamo veramente tanti adesso per tanta cosa di di privacy poi non ve lo faccio vedere ok altre cose qui potete avete se volete materiale a disposizione non so se avete già visto software download dei manuali guida molti sono in inglese quindi avete già tutto quello che io ho già tradotto tutto quindi lo avete in italiano inutile andare lì però se qualcuno legge bene l'inglese andarsi a vedere gli originali ritorniamo al software e poi andiamo all'interpretazione ritornando al software ricordatevi quindi da qui tra poco quando ve lo dirò potete ah potete controllare lo stock vedete a volte non lo vedete e dite ah non vedo nulla no andate in fondo sulla destra e avete tutti i test che avete a disposizione potete fare controlla il tuo stock e lui vi dice in fondo quante ne avete di ogni test che avete acquistato come sapete abbiamo il test immunità test per i bambini test per i sportivi test cane e gatto test pelle e capelle e unghie insomma abbiamo tanto qualcosa di straordinario sta diventando il test per la rigenerazione della pelle stiamo facendo un lavoro meraviglioso per i quelli che si sono collegati ricordiamoci adesso ricordiamoci di non parlare di test epigenetico perché siamo attaccabili col test epigenetico dobbiamo parlare di test dei fattori epigenetici di interferenza che danneggiano la salute delle cellule oppure del supporto che necessita la cellula per funzionare in maniera ottimale e quali sono vitamine minerali aminoacidi eccetera eccetera perché purtroppo si può parlare in maniera semplice test epigenetico ma non è corretto quindi noi ci adeguiamo test epigenetico per loro è il test del microRNA cioè quando hanno già visto la modificazione dovuta al fumo passivo danni da inquinamento metalli pesanti allora si può parlare di test epigenetico cioè che sei malato ma di prevenzione non si può parlare tanto per essere chiaro allora andiamo all'interpretazione allora ieri ho fatto un test e ho chiesto se potevo utilizzarlo per fare un esempio non so se è arrivato dottor Allegrini aveva detto che si collegava Bartolomeo ci sei? arriva alle nove e mezzo allora come sapete cliccate due volte e si apre il report ok si apre il report interpretazione molto molto easy eh molto molto easy guardate se avete domande volete farmi delle domande anche abbastanza anche quello che volete anche sulla chat se avete oppure alzate la mano insomma fatemi capire allora ecco il report in maniera molto semplice il report quello che faccio io quando sono di fronte a un professionista come voi quindi voi poi potete farlo ai vostri clienti pazienti io dico sempre il report è firmato dai medici responsabili del centro di elaborazione dati quindi io ti sto comunicando i tuoi dati elaborati dal centro di elaborazione dati ad Hamburgo dove abbiamo mandato il report che sono ritornati in forma di report eh questa informazione la pagina tre è quella riassuntiva in maniera molto semplice vi sto proprio facendo vedere come si interpreta il report in maniera semplice cioè l'ABC la pagina tre ci indica il riepilogo dei sistemi che hanno bisogno di attenzione e i fattori proprio che sono responsabili del fatto di quella di quella sistemi quella situazione da mettere a posto vedete qui c'è sistema emozionale sintesi proteica equilibrio microbico intestinale intestino cioè quando vi dice equilibrio microbico intestinale intestino il problema vuol dire che all'intestino c'era questa persona se voi andate nella panoramica vedete che al primo posto ci sono gli alimenti poi vi dirò questa persona è stata una bella scoperta vedete qui questi cibi sarebbe meglio non mangiarli non è un test di intolleranze non è un test di allergie questi cibi sono di incompatibilità spesso questi cibi possono contenere che una persona mangia anche sostanze che danno fastidio a quella persona pesticidi oppure altre sostanze che possono dare interferenza quindi è meglio evitare possiamo dire come dice sempre Bartolomeo è che possiamo dire non mangi più niente sappiamo che la cosa migliore è la dieta a rotazione però se lui ti dice di tenerli lontano è meglio che non li mangi per un po' quindi il primo posto gli alimenti a volte gli alimenti viene piccolino quindi anche se qui vi dice di togliere quegli alimenti per questa persona che è piccolo e non è prioritario né consigliato non è così importante l'alimentazione ricordatevi S-Driver vi dà le priorità su cui dovete intervenire quindi se io vedo il cruscotto proprio le lampadine del cruscotto di quella persona si accende la riserva e devo fare benzina mi dovrò fermare a fare benzina se io ho un problema a livello dell'olio dovrò fermarmi a mettere olio capite il concetto di S-Drive di questo rap cioè vi dice vi si accende si accendono delle lampadine e dire cavolo perché c'è questo sovraccarico a livello emozionale e lì poi in fase di analisi lo sapete meglio di me cosa fare stress vita lavoro figli che chi lo sa salute sintesi proteica equilibrio micropio intestinale intestinale andiamo a vedere allora la prima cosa se andate sotto al primo posto abbiamo visto gli alimenti quindi porre molta attenzione a quello che mangia oppure sul sistema digestivo oppure sul sistema gastrointestinale al numero due abbiamo sfide ambientali sfide ambientali guardate cosa ha sotto come priorità sostanze chimiche idrocarbuniche al terzo posto batteri post virus funghi al quarto posto le vitamine al quinto posto guardate interferenza da campi elettromagnetici e poi addirittura additivi da evitare e andremo a vederlo dopo fatto questo se voi vedete sostanze chimiche idrocarburi questa persona non rimuove queste tossine quindi probabilmente per la mancanza di vitamine probabilmente perché l'intestino non funziona bene e guardate qui c'è funghi post virus batteri ma quando insiste così S-Drive la domanda da fare con un medico gli abbiamo fatto la domanda e la domanda è stata ma è successo qualcosa all'intestino eccetera e lui gli ha risposto al medico gli è stato risposto che questa persona ha fatto un carcinoma qualche anno fa che ha fatto un sacco di radioterapie e chemio ma soprattutto pensate che dice ma lei infatti questa signora è rimasta spalordita ma voi come fate a saperlo perché e si è stata fatta la domanda dal medico se ha avuto o mai ha fatto analisi del sangue per gli anti-GC e per vedere se aveva delle riattivazioni e ha detto sì mi hanno fatto io avevo l'Epstein-Barr quindi pensate e ce l'ha ancora nessuno ha mai pensato di togliere poi c'è anche una una fermentazione c'è una candidosi ancora questa persona infatti va in testino ha sempre mal di stomaco ha un sacco di problemi e poi c'è queste carenze è chiaro come fa a similare ma andiamo avanti oltre al danno da campi elettromagnetici che come sapete è la lezione straordinaria che si è fatto all'ultima scuola di alta formazione proprio Alessandro Gelli attenzione i campi elettromagnetici alterano la forale intestinale quindi questa persona ha detto ma dormi con il cellulare il wifi devono spengere il wifi prima di andare a dormire alcune non sono così sensibili altre sono molto sensibili computer televisione eccetera eccetera andiamo avanti pagina 4 allora pagina 4 è quella dei sistemi vedete emozioni vedete guardate sempre la fetta guardate com'è grande vedete il sonno non è un problema per questa persona il sonno vedete che è piccolo è vuoto quindi queste cose non sono da prendere in considerazione in questo momento S-Drive ci dice porta l'attenzione qua il sistema emozionale la sintesi proteica l'equilibrio microbico intestinale e l'intestino quindi noi dobbiamo focalizzarci su queste cose vedete il sistema immunitario insegnato andiamo a vedere le varie pagine e guardate guardate quant'è 67 quindi è quasi il doppio del massimo quali sono i punti dove voi dovete tenere no? fare attenzione sono quei punti dove c'è il numero più alto quindi se qui sulle carenze abbiamo 16 vedete carotenoidi 4 voi avete l'intestino a 12 le sostanze chimiche elettrosensibili 17 funghi quindi questa fermentazione questa candida a 10 quindi attenzione poi se ribadite il concetto di quello che lei mangia quindi ponete attenzione qua poi è chiaro che ognuno di voi essendo un professionista della salute sa come intervenire nel capire cosa sta accadendo è chiaro che in questo caso come dice sempre Bartolomeo allegrini diamo la triade riattivi il mitocondrio perché non disintossica butti fuori devi buttare fuori le tossine riequilibri l'intestino magari da una parte self food per riossigenare due il bioenergeno vi do solo qualche dritta il same come disintossicante epatica eccetera eccetera ognuno di voi ha le sue strategie se noi andiamo sulla pagina del sistema intestinale guardate che numero è 33 cos'è che sta danneggiando di più questa persona a livello intestinale andate sempre a vedere i numeri 15 interferenza ambientale fermentazione batteri istidina cosa vi fa venire in mente probabilmente può essere un'idea di intestino permeabile B12 per piacere chiudete i microfono vitamina D3 equilibrio microbico intestinale ancora sovraccarica emozionale soprattutto a livello intestinale questa per esempio può essere che somatizza parecchio a livello intestinale ha avuto anche un carcinoma pensate anche le sue emozioni a questo punto sono magari nessuno ci ha mai lavorato neanche sul terreno hanno lavorato probabilmente livello cardiocircolatorio abbastanza bene però vedete ancora vi segnala può darci anche sulla metilazione però in questo caso poi ognuno di voi prenderà le sue decisioni di supporto guardate il danno da interferenze da campi elettromagnetici e qui dovete capire perché è così sensibile che stile di vita ha questa persona andiamo avanti carenza e vitamine se il corpo chiede le vitamine come dice marcus dategli il corpo gli sta dicendo guarda cara pinco pallino che ho qualunque ho bisogno di queste vitamine non le assimino e non le mangio non arriva a livello cellulare me le vuoi dare in qualche modo per piacere potete chiudere i microfoni perché è fondamentale scusate che vado a vedere quali sono i microfoni aperti perché se no non riesco quindi se serve quindi in maniera molto semplice come ci insegna marcus guardate dove bisogna intervenire a livello della prima della pagina numero numero tre andate a vedere la pagina del sistema immunitario e guardate i numeri più alti da dove intervenire incominciate a togliere come dice marcus dice incominciate a togliere quello che lo sta danneggiando quale sono queste sostanze chimiche dove ha lavorato dove ha vissuto dove dorme dove lavora cosa respira i disinfettanti le creme tinte dei capelli insomma fatevi un viaggio su questo se poi voi andate avanti ci sono indicatori di minerali vedete c'è litio calcio beh litio livello emozionale no io vado in maniera molto semplice poi ogni professionista che siete straordinari sapete anche fare qualche ragionamento e intervenire la lipidomica guardate è praticamente a posto in questo caso il sistema antiossidante anche probabilmente è questo che la sta tenendo su a parte carotenoidi istidina acido glutammico e isoleucina anche qui probabilmente può venire l'idea di questo intestino permeabile da mettere a posto come riferimento come segnale anche se non è pieno però è contornato quindi vi deve far ragionare e tutto torna e guardate che intossicazione da sostanze chimiche questa persona ha fatto tanto uso di farmaci per il discorso che vi ho detto prima e probabilmente questa persona nessuno ha pensato di depurarla disintossicarla drenarla chi lo sa e voi fatevi qualche ragionamento su questo la prima cosa è attivare i mitocondri lavorare sulla matrice magari il silicio colloidale il self-food per ossigenare il silicio colloidale l'intestino con il bioenergene lavorare sul fegato con il sano e poi lavorare sull'alimentazione guardate l'intestino e qui pensate latte latticini formaggi zuccheri tutte quelle cose che voi conoscete molto bene quindi se non funziona la respirazione mitocondriale c'è questa questa acidosi da mettere a posto bisogna che voi ci lavoriate c'è anche un acidosi sicuro candida l'epidemia silenziosa c'è anche un bel libro su questo non so se l'avete mai letto ecco qui i cibi pensate sempre al fatto che non è detto che questi cibi questa persona li mangi quindi se li mangia li toglie se non li mangia continua a non mangiare sono solo incompatibilità per questo 90 giorni se è possibile o poi decidete voi con questi cibi ancora una volta priorità vedete ancora una volta priorità dei vari additivi che lei magari mangia sui cibi su integratori sostanze eccetera che le stanno sovraccaricando l'organismo poi a pagina 28 c'è un consiglio di desossificazione che voi comunque ognuno ha il suo metodo quindi voi seguirete il vostro protocollo per curare le persone quello che volete fare però tenete presente che prima di dare dei probiotici bisogna pulire ci sono persone invece che danno subito i probiotici e intasano tutto anzi bloccano anche l'assimilazione delle sostanze quindi questo è importantissimo qui sui link rossi basta cliccare e avete anche una possibilità di creare cultura sui vostri clienti pazienti perché basta andare su tossine come sapete si apre un file quindi questo file che dovete assolutamente far vedere io lo faccio sempre vedere se venivano fuori in questo caso sono venute fuori sostanze chimiche quindi queste sono le possibili fonti che stanno intossicando questa persona pensate quante persone fumano fumano sia attivo che passivo svapia svapini tutte quelle cose oppure abitano in zone meravigliose per carità come Milano oppure Bergamo Torino Brescia Roma terre di Napoli terre dei fuochi ce n'è oltre 200 in Italia da bonificare e si fanno del male in più poi fumano in più poi usano sostanze nocive per la loro salute quindi vi ricordo che questo straordinario strumento è veramente utile a supporto pensate quante persone si stanno ammalando di sensibilità chimica multica fibromialgia stanchezza cronica elettrosensibilità e con cosa vanno a capire qual è il problema di queste persone qui c'è un indirizzo sicuramente io non voglio dire che sia la panacea di tutti i mali però è uno strumento incredibile se veniva fuori radiazioni andavate qui radiografie tacche ecco fate molta attenzione quando viene radiazioni a chiedere se vive o dorme al primo piano o magari lavora al piano interrato oppure sta tanto in cantina o in palestra dove areggiano pochissimo soprattutto a a piani terra perché questa situazione può essere molto problematica relativa al gas radon vi ricordo che è una delle prime cause di infiammazione a livello polmonare benvenuto Bartolomeo e quindi il radon è veramente dannoso se invece veniva fuori i metalli tossici andate qui e qui avete tutte le fonti relative ai metalli tossici naturalmente non sono tutte comunque ti fa ragionare ma bevo troppo caffè quale tipo di caffè prendo assumo medicinali quali e incominci a ragionare ok andiamo il report non è questo qui il report sa che l'ho perso eccolo qua qui scusate eccomi questo è il report ancora poi qui ancora tante informazioni ecco qua sotto potete dire guarda puoi farti una colazione pranzo e cena secondo la vostra dieta quello che siete come nutrizionisti professionisti volete fare però sappiate che togliendo i cibi che gli ha detto di non mangiare possono scegliere dalla dalla dieta a questi nutrienti in questi cibi togliendo sempre quello che gli ha detto di non mangiare Bartolomeo ci sei? pronto? sì eccolo qua Bartolo applauso Bartolo grande Bartolo grazie di essere qua allora mi sono permesso di fare un un informazione sul sull'utilizzo di S-Drive aspettavamo te per avere la tua interpretazione su un report se ce lo puoi fare per dare insomma qualche qualche tua dritta tu sei ci vedi bene sei collegato col computer sì sì allora questa è una donna aspettate un attimo è del 51 quindi ha 72 anni ok vedo qua ti vedi ecco ecco Bartolo lo vedi va eccolo qua vai a pagina 3 pagina 3 eccolo qui ok allora ti mette emozioni sintesi proteica equilibrio microbico intestinale intestinale e come indicatori che cosa c'è Giorgio come indicatori alimenti poi sostanze chimiche batteri post virus e funghi vitamina D3 B2 B12 abbiamo anche abbiamo anche parlato di questo caso eh sì va bene intanto lo vediamo intanto è chiaro che fondamentalmente cioè il test già nelle priorità vi indica orientativamente cioè io ragiono per indici allora è chiaro che la prima cosa che vado a valutare per capire la reattività di un sistema è quali sono gli indici infiammatori tra questi da valorizzare chiaramente se vediamo tra gli indici infiammatori ci sono batteri post virus e funghi quindi se andiamo a riprendere il prospetto iniziale chiaramente all'inizio vi segnala emozioni per mia esperienza del bulbo ormai sarò arrivato sicuramente a 10.000 bulbiletti vi dico che quando vi segnala emozioni dovete cercare anche nelle emozioni del passato della persona non solamente nelle emozioni recenti ok cioè turbe della vita che hanno creato problematiche che ne so gravi lutti situazioni di disagio fallimenti aziendali situazioni in cui c'è stata una malattia grave robe varie va bene poi chiaramente la sintesi proteica ancora di più vi alimenta la possibilità di uno stato infiammatorio cronico perché fondamentalmente è quello che io ho valorizzato dei dati di tanti test quando è inserito sintesi proteica quasi sempre vi sta dicendo che c'è probabilmente una produzione una produzione anomala di anticorpi o di comunque proteine anomale che stanno infiammando il sistema ora Giorgio io volevo andare a vedere la pagina numero 5 nella pagina numero 5 il valore che vi viene è 67 allora se voi vedete no chiaramente da un lato abbiamo una deprezione di vitamine che hanno un'azione alcune di loro soprattutto neurotrofica ok nell'ambito invece delle attivazioni immunologiche vengono segnalati i funghi nonché viene dato un valore di 17 a sostanze chimiche e elettrosensibilità in questi casi voi cercate di chiedere sempre se il paziente assuma farmaci non so in questo caso Giorgio ma questa signora assume farmaci? no questa signora ha assunto tanti farmaci per un carcinoma ha avuto un carcinoma ok ma attualmente in remissione il carcinoma? sì ok ok andiamo a vedere siccome chiaramente diceva intestino andiamo a vedere qual è la situazione dell'intestino e dei supporti al sistema intestinale andiamo a pagina 7 a pagina 7 Giorgio sei a pagina 9 già questo è 9 a pagina 7 ok a pagina 7 vedete il valore è 33 quindi in questo caso siamo di fronte a un focus intestinale intestinale cioè chiaramente bisogna lavorare molto sulla pagina intestinale di questa persona per valorizzare questo dato chiaramente vedete come stress ambientale abbiamo un valore di 15 come marcatori nutrizionali la vitamina D3 gli stidine la B12 che hanno delle valenze di diverso significato per quanto riguarda il supporto all'intestino chiaramente come vedete anche equilibrio microbico intestinale ed emozioni gestendo anche questo è chiaro che nella valutazione integrata poneica della persona dovete valutare tanti aspetti vorrei dire chi di voi si aiuta con i dati morfologici chi si aiuta con i dati collegati ad aspetti che ne so iridologici altri che possono diciamo collegarsi ai dati di laboratorio però certamente diciamo da quello che è il mio input iniziale io penserei in questo caso a uno stato infiammatorio cronico a una situazione per curiosità Giorgio vorrei vedere la pagina se è possibile la numero 24 e poi anche la pagina degli acidi grassi la pagina vabbè ti fermi anche vai avanti vai la 24 vediamo la 24 beh nella 24 vedete c'è un profilo interessante allora quando voi vi trovate di fronte a una condizione di questo genere il dovete andare a guardare sempre il rapporto che c'è fra energia e materia assolutamente ma qua ci sono delle indicazioni che vanno oltre perché se vogliamo confrontare queste problematiche di tipo microbiologico col sistema immunitario dobbiamo pensare che c'è una parte del sistema immunitario della signora o che sta resistendo va bene e quindi è una fase di latenza di una di un combattimento in cui c'è un terreno fra virgolette diciamo così inquinato no di tipo infiammatorio cronico perché qua siamo di fronte a una condizione di iperstimolazione delle branche immunitarie che producono interferone tnf quindi siamo di fronte alle cellule del th1 in generale tutta quella parte immunitaria che ci difende per esempio dei tumori e già giorgio prima ha detto che la signora ha avuto un carcinoma nella storia quindi probabilmente questa parte sua difensiva no e che peraltro in disturbo ipertrofico può generare malattie autoimmuni ma può generare anche malattie neoplastiche poi dipende da come reagisce l'organismo e da quale è la struttura cellulare che viene danneggiata certamente questa è una condizione da privilegiare ecco perché diciamo quando andate a considerare stiamo parlando di una donna di 72 anni e io mi inizierei a preoccupare di dove scoprire questa infiammazione allora la prima cosa che vado a vedere eventualmente è una infiammazione della pariente sinale e ce l'ha confermato è un'infiammazione del sistema nervoso allora in questo caso vado a cercare dal bulbo dei marcatori in questo caso Giorgio gentilmente è chiaro che questa postvirusi va indagata cioè una postvirusi a 72 anni come minimo dovete chiederle alla persona se ha avuto un herpes se ha avuto uno zoster se è da ragazza aveva herpes se ha avuto una mononcleosi è importante infatti no come per chi di voi sarà al congresso la mia relazione si incentra proprio sulla comprensione immunologica delle reattivazioni virali soprattutto vi parlerò al congresso parlerò di quella di Epstein-Barr allora in ambito di composizione di acidi grassi chiaramente qua non viene segnalato niente per cui voglio dire possiamo stare tranquilli andiamo a vedere a livello dei minerali Giorgio a livello dei minerali e viene segnalato il litio ok e quindi diciamo quella emozione che vi ha segnalato all'inizio il come la dovete interpretare con il litio la dovete interpretare come una problematica di coerenza fra i due emisferi chiaramente io vi sto postulando questo perché io parto dalla mia esperienza clinica e quindi in relazione al fatto che io sono uno studioso di queste cose da tanti anni chiaramente col test del bulbo quando mi è capitato di vedere emozioni il litio ho sempre valorizzato dei dati che sono dei dati che possono essere ricercati nel paziente di deconnessione fra la parte destra quella del cervello emotivo del cervello diciamo intuitivo sensibile sensoriale astratto con la parte sinistra quella del cervello analitico matematico aritmetico logico va bene cartesiano diciamo quindi c'è sicuramente qualche conflittualità che può trovare una sua centralità in una deconnessione della ghiandola pineale la quale a sua volta potrebbe essere responsabile dello stato infiammatorio cronico che si è stabilito a livello della barriera intestinale per cui capite dal test vengono fuori io non so Giorgio sinceramente è un caso che tu forse me l'hai accenato ma questa signora che sintomi aveva anche per orientarci il suo problema è sempre stato intestinale gonfiori continui ma questo carcinoma dove l'ha avuto a polmone intestino intestino ah intestino e cavolo e qua va valorizzato chiaramente il dato qua si può fare molto per la persona cioè dobbiamo andare a rinforzare quella parte che si è indebolita poi uno vuole cercare gli esami vuole fare degli esami può fare quello che vuole voglio dire si può fare la tipizzazione linfocitare andare a cercare però certamente la parte del sistema immunitario di questa persona che è stata consumata per tanti anni va sostenuta a più livelli quindi l'intervento con integrazione con nutraceutici l'intervento sull'asse perché ricordatevi la ghiandola pineale produce il più potente attivatore del sistema TH1 che è la melatonina la melatonina è la sostanza più potente nell'attivare il TH1 tanto che il dottor Di Bella l'ha messo nella terapia l'ha messa la melatonina nella terapia antineoplastica motivo per cui chiaramente voi attraverso un bulbo potete prendere questa persona e iniziarla a integrare cioè integrare non solo il senso di integrazione ma proprio integrare nelle sue due parti separate nell'asse cervello intestino quindi fare un lavoro che valorizza anche diverse competenze ecco perché il bulbo diventa una sorta di bussola una sorta di orientamento per quello che può essere chiaramente un lavoro che si può fare su più livelli e da questo punto di vista io penso che il test S-Drive è un test unico come interpretazione quindi la focalità è quella intestinale sulla base emotiva Giorgio sei riuscito a indagare qualcosa visto che la conosci cioè la signora ha avuto qualche conflittualità importante qualche situazione già avere un tumore non è una passeggiata però voglio dire se dobbiamo andare dietro anche alle teorie diciamo psico immunitarie dobbiamo pensare che c'è stata un'attivazione anche diciamo di tipo psicologico probabilmente nell'ambito della neoplasia ma voglio dire in questo caso io non conosco la storia signora però io quando sono di fronte a questi pazienti cerco anche di comprendere che tipo di problematica c'è stata poi chiaramente in questa persona va sostenuta vedete l'aspetto vitaminico è un aspetto soprattutto orientativo di uno stato di sofferenza principalmente del tessuto nervoso va bene perché c'è la B12 c'è la B2 c'è la B3 e quindi dobbiamo pensare che insomma va regolata come attività io non so a livello di sintomi di altri sintomi oltre l'intestino di che cosa soffre questa signora no no il resto sta abbastanza bene c'è questo gonfiore questa questa si sente un po' stanca e questo gonfiore ma lei ha fatto già un'eliminazione di alimenti o di ancora no 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 ancora no non gliel'ha detto mai nessuno vabbè ma una riattivazione non si può far fare l'aveva fatto aveva fatto un esame qualcuno gli aveva fatto un po' di anni fa e c'era questa riattivazione dell'Epstein-Barr ah quindi c'era l'Epstein-Barr e vabbè quando voi trovate le riattivazioni dell'Epstein-Barr la prima cosa che dovete fare chiaramente cercare di abbassare la quota di glutine quella è importante perché il glutine entra in diciamo in connessione col sistema ebna l'ebna è praticamente un epitopo cioè un antigene del virus di Epstein-Barr che praticamente è l'antigene nucleare ebna sta per antigene nucleare Epstein-Barr e praticamente ha un'omologia di sequenza col glutine tanto che ci sono degli studi americani anche pubblicati che dimostrano che questa sostanza con chiaramente un intervento anche della cellula a più livelli anche a livello del DNA è capace di slatentizzare anche i soggetti predisposti quindi HLA predisposti con gli alleli per il glutine è capace di slatentizzare e favorire la genesi della celiachia ma qua non parliamo di celiachia quando soprattutto di gluten sensivity quindi voglio dire noi dobbiamo anche orientare tra i vari casi io ultimamente ho un caso a Udine che è uno degli studi dove lavoro di una paziente che se vuoi Giorgio io ti posso girare questo bulbo se ne vogliamo parlare ti giro questo bulbo aspetta che però su whatsapp te lo posso girare perché non mi sta funzionando lì te lo giro su whatsapp aspetta te lo sto girando ok senti se ti giro gli esami me li puoi anche pubblicare si ok ti sto girando il ti sto girando sia il ok in questo momento te lo sto girando ok discutiamo di questo caso che vi faccio capire molte cose te l'ho girato si chiama Maida Alessandra Udine possiamo parlarne perché lei mi ha dato anche il consenso a fare un'intervista se vogliamo perché le testimonianze sono importanti quindi se tu ora me lo scarichi intanto io inizio a parlare di questo caso io ho un'attività Udine da tanti anni perché io insegnavo e quindi giravo l'Italia ogni tanto qualcuno mi pescava diceva va vieni dottor vuoi venire qui a visitare e vabbè non è vicinissimo a Monopoli però insomma qualche passeggiata ce la siamo fatti 11 anni e praticamente questa signora è una signora che dall'età di 34 anni attualmente ne ha 41 praticamente soffre di un'artrite reumatoide lei è stata diagnosticata un'artrite reumatoide con anticorpi antinucleo positivi peraltro su una precedente base tiroiditica cioè lei ha sofferto anche di tiroidite da shimuto all'età di 30 anni in terapia sostitutiva chiaramente intraprende diversi percorsi reumatologici e arriva a un certo punto che dopo anni di terapie con cortisone antifiammatori immunosoppressori questa signora va in sofferenza non risponde più benissimo non risponde più alle terapie non risponde più alle terapie nonostante faccia terapia pesanti e nonostante viene seguita da grandi centri di reumatologia fra cui Padova Udine Milano però la signora molle di un finanziere trasferita napoletana sul Furica per chi di voi conosce le costituzioni sanguigna quindi una mesodermica quindi una con un connettivo potente e quindi questa signora arriva a un certo punto che si stravolge la sua esistenza i dolori sono sempre di più non è più responsiva a farmaci chiede aiuto ad altro e io a Udine sono in un centro che fa agopuntura la dottoressa Sinippo è un medico che fa agopuntura da 30 anni e chiaramente questa signora vede che in questo centro fa agopuntura proviamo con l'agopuntura come si fa andando in questo centro la dottoressa mi chiama dice dottore Allegrini guardi sto facendo il test a una paziente il test del bumbo io lo invio perché ecco Giorgio se mi fai vedere la pagina 3 così iniziamo a discutere del caso io lo invio e io chiaramente leggo perché poi scusa un attimo prima siccome segnalava mais scusa devo rispondere alla domanda è possibile che ci sia un segnalazione di nickel quella di prima certo potenzialmente sì se c'è il mais ma dove segnalava mais sotto nel sistema immunitario sì sì vabbè tenetelo presente però siccome comunque non sono segnalati metalli tossici ok diventa un problema diciamo secondario capito quindi non ha non ha un valore molto elevato se tu vedi il valore non è altissimo io andrei di più sulla componente immunitaria però il nickel certo allora considerate che questa signora quindi viene fuori un quadro vedete emozioni sistema adrenergico intestinale e sistema gastrointestinale e santa miseria sempre queste emozioni e voi dite che cosa c'entra un'emozione con un'artrite quando si è scatenata l'artrite l'artrite si è scatenata quando la signora da Napoli il marito che è un maresciallo della guardia di finanza è stato trasferito a Udine esattamente nel cambiamento di vita di abitudini di clima siamo al polo opposto a livello anche magnetico elettromagnetico no proprio una terra completamente opposta a quella di Napoli io lo conosco il Friuli chiaramente siamo in territori completamente differenti chiaramente si slatentizza questa situazione al di là di diversi disagi emotivi che vengono fuori nella vita stessa lei è una professoressa immaginate ha dovuto combattere per evitare i vaccini perché aveva questa grave malattia autoimmune e chiaramente la vaccinazione l'avrebbe potuta in qualche maniera far soffrire di più è riuscita a farne solamente due però due le ha fatti sistema adrenergico beh la stanchezza è il sintomo dominante di questa signora cioè al di là dei dolori articolari uno dei sintomi che mi ha colpito la stanchezza e l'insonnia cioè la signora non dormiva dormiva pochissimo quindi chiaramente dormendo pochissimo non riposava quindi tutto un circuito e poi intestino intestino e gastrointestinale quindi l'attivazione di più sistemi intestino e gastrointestinale molti medici se andassimo a un reumatologo direbbe reumatologo che cosa c'entra un'artrite con l'intestino niente giusto e invece se noi consideriamo che nell'intestino c'è un sistema che è il sistema il tessuto linfoide beh le correlazioni fra l'artrite e l'intestino sono molteplici soprattutto perché noi possiamo andare a capire chi è che può insultare quel tessuto linfoide considerando anche che la signora aveva nella sua storia una tiroidite da Shimoto sistema gastrointestinale e chiaramente mi viene da chiedere alla signora signora quando viene fuori gastrointestinale non pensate solo all'intestino pensate anche alla funzione gastrica alla funzione biliare alla funzione pancreatica quindi il sintomo che chiedo spesso signora ma reflusso signora ma gonfia l'addome si gonfia l'addome mentre mangia o dopo che mangia ha problemi digestivi la signora aveva anche parecchi problemi lì che lei attribuiva all'uso di farmaci e come non dargli ragione si è appreso tanti infiammatori tanti immunosoppressori tanti cortisonici chiaramente ha preso anche gastroprotettori immaginate andiamo a vedere Giorgio nell'ambito degli indicatori ecco qua vedete al primo posto c'è al primo posto vi viene post virus virus e parassiti allora per me che sono omeopata cioè è leggere questa informazione è aprire un varco un varco enorme mi mancavano dei dati che io ho cercato subito di avere facendo fare dei prelievi alla signora che poi vediamo e che hanno confermato la reattivazione virale ma il fatto stesso che ci sia l'informazione parassitaria in una sulfurica ancora di più è un indice di uno sconvolgimento importante perché quando c'è l'attivazione parassitaria della branca TH2 la malattia da organotropica cioè la malattia infiammatoria cronica su base linfocito stimolante da essere organotropica vedi tiroidite da scimoto diventa sistemica quindi questa aveva un'artrite sistemica quindi aveva una malattia sistemica TH2 correlata ma che era favorita dalla post virosi poi Giorgio se vai alla pagina successiva la 4 accanto agli indicatori che avevamo abbiamo segnalato prima va bene vedete c'è sistema immunitario vedete quant'è è anche sistema cardiovascolare quindi diciamo siamo di fronte a un'attivazione molto potente dove se andiamo a vedere allora considerate che questa paziente è una paziente che è arrivata allo studio sotto farmaci immunosoppressori e quindi non è che cioè lei prendeva immunosoppressori che non gli facevano niente quindi dal bulbo possiamo aspettarci anche che il valore del sistema immunitario non sia così elevato perché chiaramente prendendo immunosoppressori questa ancora di più continuava immunosoppressori in un sistema che però esprimeva parassiti e disagio intestinale e anche con le problematiche del triptofano vai avanti a pagina 7 Giorgio sull'intestino signora simpaticissima gaudente la quale quando è entrata la seconda volta dopo tre mesi nel mio studio ha detto dottore le posso fare una foto perché voglio tenere la sua foto in cucina perché ogni volta che vedo la sua foto mi ricordo che lei mi ha fatto un miracolo ho detto io non ho fatto nessun miracolo praticamente guardate la barriera intestinale anche qui c'è un'attivazione mista quando voi trovate betaina in questa indicazione marcatori nutrizionali collegati alla barriera intestinale dovete pensare a una problematica biliopancreatica ok allora qui c'era una problematica che è chiaramente collegato a un sistema complesso digestivo allo stesso tempo il triptofano come indicatore della barriera intestinale in questi soggetti determina una cattiva regolazione la carenza di questa di questo aminoacido perché non fa produrre bene serotonina ci porta ad avere una cattiva regolazione degli asti di regolazione neurovegetativi dell'addome per cui solitamente la persona presenta grossi disturbi in ambito digestivo la stessa valenza del sulforafano e della vitamina B12 indica indirettamente una sofferenza epatica quindi siamo in un quadro misto poliedrico e voi direste dottore ma che cosa serve perché il fegato artrite no beh considerate che siamo di fronte a una reattività infiammatoria in cui c'è un'origine probabilmente a livello del tessuto linfoide profondo che poi vedrete anche dei dati che abbiamo preso dagli esami è abbastanza elevata l'attivazione contro non solo il virus Epstein-Barr ma anche contro il citomegalovirus per cui c'è una sofferenza epatica soprattutto con danno cellulare e con danno ossigerativo dalla cellula epatica e questo chiaramente complica il quadro infiammatorio cronico che si è stabilito se vai avanti Giorgio facciamo vedere altri aspetti a livello del supporto circolatorio come vedete ci sono quindi questo che cosa significa quando voi trovate anche una sofferenza della parte fra virgolette circolatoria in un ambito di una patologia artritica vi sta segnalando uno stato infiammatorio cronico in cui c'è anche una partecipazione del microcircolo che è proprio dell'azione spesso endotelio tossica dei virus erpetici soprattutto in questo caso il citomegalovirus considerate che noi abbiamo un sistema MALT no? mucosa l'associated lymphoid tissue ma il sistema MALT ha diverse sedi di espressione ha il GALT che sta nell'intestino che è una sorta di centralina ha il BALT che sta nei bronchi ha il NALT che sta nel naso nell'apparato faringeo ha l'URAALT che sta nell'apparato urogenitale ha il SALT che sta per skin associated che sta nella pelle ha il cosiddetto VALT che sarebbe il tessuto linfoide associato ai vasi che è un tessuto linfoide estesissimo che è presente in zona perivasale subendoteliale e che quindi da un danno endoteliale può favorire chiaramente anche una slatentizzazione del tessuto linfoide sottoendoteliale e creare anche una vascurite cronica che spesso è alla base delle malattie autoimmuni anche e d'altronde vedete molte malattie autoimmuni sono scatenate ricordatevi la sindrome del morbo di Renault il morbo di Renault è spesso anticipatorio di molte problematiche reumatologiche ok quindi in questa signora c'era anche un'importante componente non solo intestinale epatica gastica ma anche vedremo poi splenica la milza il più grosso organo immunocompetente dell'apparato digerente ma non solo che è un aggregato di tessuto linfoide e quindi considerate che stiamo partendo sempre dal fatto che tra gli indicatori in questa signora al primo posto c'è post virosi ok quindi se vai avanti Giorgio per vedere gli altri aspetti vai a pagina 9 per quanto riguarda anche l'inquinamento elettromagnetico qua non c'è molto vai avanti con le pagine qui c'è la metilazione no betaina metilazione betaina tutta la parte che riguarda la B12 sì sì c'è tutta la parte di metilazione e abbiamo detto Giorgio va scurite anche quella ricordiamoci i problemi collegati capito alla anche all'endotelio tossicità quindi qua chiaramente vanno bene self food che sono stati dati self food il bioenergen ma non solo questo ho fatto drenaggio ho fatto un lavoro anche col same ho fatto un lavoro molto sui virus perché ho trovato due virus attivati vai avanti volevo andare proprio alla pagina 24 dove anche la pagina degli acidi grassi perché ricordate che questo è un test di una persona che fa farmaci di una persona che è immunodepressa farmacologicamente vedete acido alfalinoleico quindi questa è anche diciamo neuroinfiammata quindi una componente infiammatoria poliedrica c'ha e soprattutto poi diciamo confermata dal dato microbiologico se vai nell'ultima pagina quella pagina 24 delle resistenze la pagina 24 chiaramente vi dà proprio l'identità qui vedi aminoacidi sono eh eh tirosina cistina figa ma sono aminoacidi legati Giorgio al fatto che la signora era scarica la signora era astenica quindi tirosina carente per la tirosina importante per l'adrenalina guardate qua la posto i virusi vedete come segnale e considerate che voi avete questo segnale in un paziente in questo caso una paziente che è immunodepressa cioè in una paziente che sta facendo immunosoppressori quindi rendetevi conto la potenza di S-Drive cioè voi avete questo segnale nonostante la signora stia facendo immunosoppressori da una vita e lei stessa per sua missione ha ammesso che sono mesi dottore che quei farmaci li ho presi e sapevo che non mi avrebbero fatto niente quindi li prendevo solo per abitudine per tenere contento mio marito e i miei figli per tenere contento mio marito e i miei figli io ti ho girato anche l'esame tra gli esami guardate qua anche che solfato di alluminio vedi tutti i farmaci che sta prendendo guarda qua sì sì va beh Giorgio andava pulita io io questa gli ho fatto un drenaggio immagina con si prodotti poi gli ho dato self food viener gene l'esame ho detto signora ho lavato la SPAC sei prodotti di drenaggio la triade più gli ho dato il un prodotto drenaggio omeopatico cioè non gli ho dato drenaggio fitoteratico ho agito con delle frequenze minime ho drenato il fegato il connettivo è chiaro la linfa il tessuto nervoso perché le indicazioni del test sono chiare la milza ebbè sistema immunitario milza e poi il sangue e in più ho attivato in più ho dato anche una terapia specifica ma io volevo Giorgio che mettevi gli esami che abbiamo che ecco qua guardate citomegalovirus ok le IgG del citomegalovirus sono 152 quando si parla di attivazione di riattivazione quanto i livelli di anticorpi IgG sono superiori ve lo dico per esperienza ormai pluriannale di 5 7 volte 7 volte allo standard va bene perché vuol dire che c'è poi lo spiegherò meglio per chi di voi avrà la possibilità di sentirlo al congresso spiegherò che cosa succede a livello linfocitario quando noi abbiamo delle variazioni nell'ambito della capacità di controllo del sistema del tessuto stesso linfoide rispetto a quella che è l'attività di virus latenti e questo controllo viene slatentizzato spesso da fattori epigenetici di disturbo fra cui sostanze chimiche metalli tossici farmaci tutti gli inquinanti ambientali pesticidi additivi sono tutti sistemi che vanno a modificare il pattern di equilibrio che si stabilisce fra il sistema immunitario e il virus latente in questo caso vedete abbiamo un VCA maggiore di 750 allora i tre abbiamo un'attivazione di un citomegalovirus e abbiamo tre anticorpi che si fanno dosare per vedere le riattivazioni del virus epistembar che sono l'anticorpo Hurley e A l'anticorpo Precuce che in questo caso non è alto ok quindi non è una riattivazione acuta quindi quando è una riattivazione acuta dobbiamo curare queste persone anche con antivirali vuol dire che c'è stata una lisi cellulare e c'è un'immissione in giro di virus quando c'è l'herry quando pronto ce n'è andato come è andato che si mantiene un livello superiore alle PNA ti abbiamo perso le ultime parole inizia allora ora mi sentite sì eri rimasto a qui allora stavo dicendo che le A antigene early è un antigene precoce quando voi trovate un antigene early elevato quella è una riattivazione in corso acuta ok e la riattivazione acuta può essere anche curata con gli antivirali oltre che i farmaci naturali di cui vi ho parlato prima nelle riattivazioni croniche è molto importante andare a vedere i valori del VCA dell'antigene capsidico e dell'antigene soprattutto EBNA perché l'EBNA si comporta da epitopo lineare di molte strutture corporee quindi è capace a sua volta cioè voi non è che non vi dovete preoccupare del VCA che è così alto vedete ma 750 eh però la signora capito cioè ha l'EBNA che è praticamente l'indice di anticorpo è l'anticorpo nucleare dell'episembar che quando è elevato è quello che per esempio vi porta a escludere il glutine perché ha una epitopia con il glutine quindi crea un legame forte con il glutine è come se praticamente il corpo produce anticorpi con il glutine in verità sta producendo anticorpi contro l'EBNA perché sono molto simili cioè quella che si chiama omologia di sequenza a livello della catena aminoacidica lineare di questo virus di questo antigene virale quest'antigene che è potente immunogenico l'EBNA l'EBNA praticamente in questo caso è basso perché la signora fa immunosoppressione quindi facendo immunosoppressione va a bloccare quelle cellule che praticamente sono quelle che riconoscono l'EBNA anche da altre parti però è sempre alto è 55 mentre il dato che voi vedete interessante è l'elevato valore del VCA nonostante vedete il VCA nonostante la signora fa immunosoppressori maggiore di 750 che cosa significa vedete che il VCA IgM è 30 e quindi è un valore dubbio non è sotto i 20 che è negativo ok allora che cosa significa questo quadro questo quadro è molto tipico di riattivazioni profonde perché è un valore superiore a 750 e anche di lunga durata di lunga durata io l'ho trovato spesso anche se spesso voi troverete i valori delle BNA molto alti di GG e BNA perché in questo caso sono bassi perché la signora fa immunosoppressori e comunque la signora ha ricevuto quello che lei chiama miracolo la signora non ha più dolori ha buttato lei stessa ha detto da napoletana dottore ho buttato i farmaci nel cesso ha detto così finalmente non ha più dolori non ha più sintomi vaghi soprattutto ha detto dottore mi hai fatto un regalo sto dormendo la notte ormai non avevo non ricordavo più cosa significava dormire chiaramente ha recuperato energia ha perso peso siamo a 10 kg vi sto parlando di una paziente che stamattina è stata contentissima di girarmi questo perché questo praticamente me lo sono fatto girare apposta per la lezione di stasera io sono a Bergamo a lavoro ho lavorato tutto il giorno e ora sono in albergo però stamattina mi sono ricordato e mi sono fatto girare questo test perché è uno dei test che ci aiuta a capire come attraverso c'è un bulbo noi siamo arrivati a capire questo e se possiamo un domani e se un domani possiamo essere migliaia a fare questo noi un domani potremmo portare le testimonianze di tutti questi pazienti che ci hanno veramente buttato i farmaci hanno cambiato la vita questa signora ha perso anche 10 kg e non era una signora obesa era una bella donna napoletana molto empatica positiva alla quale fra le altre cose le avevano fatto per la sua stanchezza cronica la diagnosi di depressione quindi immaginate che potenziale abbiamo dobbiamo chiaramente lavorare insieme e quindi queste serate servono anche a questo perché servono anche a favorire questa modalità dobbiamo fare certamente continuo questo è sicuramente uno dei master più importanti della struttura che Giorgio ha creato e d'altronde se stiamo stasera Giorgio nell'anticamera di un congresso che penso che ti terrà impegnato io sono già arrivato immagina quindi io sto già qua ma in questo caso però vuole dire è perché questo 1895 della varicella cos'è così alto no allora anche questo allora considera che qual è la differenza allora noi stiamo parlando di una malattia autoimmune allora se tu avevi una paziente con sintomi vaghi facciamo fin di avere una paziente che ha stanchezza cronica ha praticamente situazione per esempio di sintomi vaghi che ne so cefalea si confia la pancia ha prurito no no qua c'è una diagnosi di artrite quindi qua c'è da andare a valutare l'attività del linfocita e la differenza qual è perché io lo zoster lo considero anche quando per esempio ci sono sintomi vaghi ma non c'è malattia autoimmune ma quando c'è la malattia autoimmune io sono andato direttamente a lavorare sul citomegalovirus e sull'epsenbar perché tutte e due Giorgio hanno attività intracellulare vivono all'interno della cellula al contrario dello zoo però non è sbagliato se tu gli vai a dare anche qualcosa per lo zoster ma andavo a incasinare la signora capito quindi il mio ragionamento ma non è sbagliato però considera rispetto al valore limite 750 rispetto al valore limite sono 20 volte di più quasi intorno alle 10 12 volte di più capito quindi lo puoi anche puoi anche lavorare sullo zoster ma se io lavoro lavoro massimo su due cioè se io lavoro vado a lavorare allora se sono due per esempio citomegalovirus e epsenbar hanno la caratteristica di essere intralinfocitari ecco perché sono quelli più pericolosi perché si nascondono nella cellula ci sono delle cellule intelligenti che creano questa specie di associazione a delinquere infatti ci sono degli studi che poi ho portato per l'evento che faremo sabato che farò vedervi sono degli studi recenti che stanno dimostrando tutte queste cose quindi noi abbiamo ragione perché ora ci sono gli studi meraviglioso senti Marco solo che nessuno li mette perché allora immaginate oggi è venuta allora posso raccontarvi quest'altro caso vi posso raccontare quest'altro caso e me ne vado allora oggi è venuta da me una signora delle tue parti di La Spezia che mi ha raggiunto perché ha avuto il mio nome la signora Baldini da una mia paziente della Liguria che io avevo uno studio tanti anni fa a Chiavari vicino al fiume sentiamo poco fra Chiavari e Lavagna proprio lì vicino e quindi questa signora cosa? ti sentiamo poco questa signora è venuta con questa diarca mi sentite poco? sì e ora? ora meglio e ora? ok allora dicevo questa signora è arrivata da me con una diagnosi di acalassia 52 anni fatto una diagnosi di acalassia esofagia questa signora non si è voluta rassegnare ha detto io devo andare in fondo è uno dei casi che presenterò perché io ho la terza volta che la vedo e la signora ha recuperato 7 kg mi sentite? sì sì ti sentiamo bene la signora ha recuperato 7 kg dal testo del bulbo è venuta fuori riattivazione metallismo sostanze chimiche stiamo lavorando su questo la signora non mangiava sapete che significa una acalassia esofagea la signora ora si alimenta ha preso 6 kg è contentissima vuole creare un centro S-Drive in quella zona oggi l'ho messa in contatto te l'ho giù l'ho messa in contatto con l'Area e il Rio oggi è venuta la signora abbiamo fatto il terzo bulbo io questi poi quando facciamo le serate me li farò passare dal centro di Milena perché c'è la Norono e li analizzeremo perché sono interessantissimi cioè una acalassia esofagea dove è stata scoperta anche lì una riattivazione cioè dove noi abbiamo i dati riattivazione metallismo cioè dati che la signora non poteva prendere da nessuna cioè una acalassia esofagea sarebbe rimasta acalassia e basta per fortuna lei essendo una naturalista e aveva questa amica che era una mia paziente della zona di Cocorno mi sa che è il paese dove vive Balducci quella zona là è praticamente è venuta allo studio di Treviglio si è fatta tutta la cisa tutta la strada che ti fai tu per arrivare però per farti capire questi dati ce li abbiamo dobbiamo diventare tanti dobbiamo diventare tanti dobbiamo essere tanti e più siamo e più riusciremo ad aiutare un passo per voi Bartolo Bartolo permettimi di lanciare quei tre appuntamenti che abbiamo abbiamo pensato di dare a tutti per la formazione dell'interpretazione dell'S Drive con anche con Antonio abbiamo deciso di farli aprile maggio e giugno no? e faremo dei lunedì poi vi saranno dette le date ricordatevi che il 27 28 ci sarà lezione importante di applicazione di S Drive in medicina estetica 27 28 maggio poi ci sarà 4 ore di lezione di Bartolomeo Allegrini sull'S Drive poi ci sarà 4 ore sull'applicazione nutraceutica avanzata dalla base alla clinica con Mauro Miceli e Eugenio Luigi Iori poi ricordatevi che stiamo facendo qualcosa di importante per il congresso internazionale 9-10 settembre a Bologna verranno i top leader nazionali e internazionali con esperienza clinica S Drive per anche il presidente 9-10 settembre a Bologna e poi come sapete per chi vuole abbiamo il grande evento epigenetica con Bruce Lipton e Braden a fine settembre per chiunque vuole anche in convenzione con noi lì è veramente un evento straordinario volevo dare questi appuntamenti per sabato e domenica 18-19 siamo sold out 250 persone in due giorni cosa dire incredibile avete domande potete aprire i microfoni e fare tutte le domande che volete e poi andiamo a letto salvatore il solito salvatore breve breve sì niente io ho praticamente un caso clinico di una tirogide di Hashimoto che ho trattato per anni in fase di compenso perché questo utilizzavo la vitamina A 10.000 unità la C un grammo per tre la E 500 la vitamina D 10.000 unità poi la K2 105 microgrammi e l'avevo compensato e più prendo una compressa per la tiroide Hashimoto che io uso chiaramente il T3 T4 la levotiroxina e la iodotironina compensata il problema è questo che io gli ho fatto poi il drive il test praticamente mi è uscita emozioni sintesi proteica equilibrio microintestinale sistema ormonale allora quello che mi ha lasciato in dubbio perché questa ha una praticamente un'omocistenia alta che l'ho trattata si è dato a 4 nonostante che utilizzasse il normocis che c'è la B6 dentro la B12 e la sono un po' stanca anch'io praticamente mi dà praticamente una carenza di vitamina B9 B3 e poi la vitamina D che usa 10.000 unità una carenza di B3 o io quello che mi chiedo nonostante questo approccio terapia vitamina che io utilizzo con il protocollo Pierpaoli mi ha dato queste carenze perché Bartolo mi hai sentito perché ma allora se tu allora hai studiato l'infiammazione di questa di fatti no perché con questo protocollo è compensata sì ok e tu è compensata come cioè noi ora abbiamo un grande strumento alla fine qual è il discorso certo tu lo sai che io vengo dall'omeopatia e per me il terreno è tutto e nel terreno no Hahnemann ha parlato di miasma che era collegato a un virus un microbo un batterio un parassita va bene quindi io sono fissato per l'immunologia comunque c'ha funghi solamente Bartolo funghi ma allora c'ha funghi se tu hai sentito una delle lezioni che ha fatto Marcus ora tu in questa fase vedi funghi ma se tu hai una tiroidite da scimoto nella storia tu sei autorizzato ad andare a cercare le riattivazioni perché quello che ti segnale il test può essere benissimo in questo momento una prevalenza dell'habitat fungino hai capito salvatore e quindi tu voglio dire ora noi in base alla casistica e in base anche all'epoca che stiamo vivendo secondo me cioè dobbiamo sollecitare molto più la ricerca di questi fattori cioè capito perché probabilmente capito quello che hai fatto tu e che abbiamo fatto noi per tanti anni l'integrazione funzionale mirata con quello che hai detto prima va bene tiene il sistema in equilibrio più o meno in equilibrio ma non è lavorato e perché ecco perché poi il bulbo ti dice vedi che qua c'è ancora carenza perché il sistema sta lavorando sta lavorando sta producendo e di fatti mi dà l'equilibrio microbico intestinale benissimo e che è alterato e quindi e poi una sintesi proteica che ci sono delle proteine anomale come dice però Rino ma tu oggi rinunceresti ad andare a studiare il GALT e secondo te io non ho studiato non l'ho scritto sul mio libro e lo so capito ma no ma voglio dire alla luce di quello che stiamo dicendo tu rinunceresti ad andare a studiare il GALT ad andare a studiare il tessuto onifoide no e quindi prendi la signora e dici signora andiamo a vedere perché nonostante io ti do questo questo è compensato qua dal test capito cioè il test del vulvo lo devi utilizzare come indirizzo come bussola Bartolomeo scusa in questo caso visto che c'è l'equilibrio gastrointestinale potrebbe esserci un innesco di ericobatter visto che c'era anche una tiroidite tu puoi allora tu puoi studiare allora lei c'ha un esofagite è uno per volta stiamo parlando del caso precedente stava parlando il collega va bene ho capito scusami no allora potenzialmente il discorso è questo se tu avevi è giusto perché quando tu vai a vedere i grandi induttori di autoimmunità no ne parlerò proprio al congresso farò vedere come non è che noi abbiamo solamente i virus erpetici poi ci sono altri virus altri ci sono i streptococchi beh ricordatevi che lo streptococco è uno dei più forti attivatori secondari già da bambino ci causa come malattia metafotale reumatismo articolare infiammazione articolare eh sì eh voglio dire l'ericopat però qua il bulbo Mario ti dà virus post virus attraverso e bv come innesco della sintereumatoide però se ti dava batteri il ragionamento tuo è logico allora vado a cercare vado a fare gli anticorpi contro no io in certi casi quando sono malattie complesse vado a fare anche l'antigeno australe vado a vedere l'anticorpo eh contro il virus dell'epatite B capito? cioè fai una ricerca solo sul pannello sulla virologia reattiva secondaria cioè sulle reattive virali perché come il caso che abbiamo che ma perché c'è un disordine c'è un disordine immunologico incredibile eh oggi come oggi e quando il fatto di vaccini è ancora di più cioè io ho qualche voglio dire nonostante diciamo che la signora sta bene presenta queste alterazioni che io adesso vado a correggere capito? cosa voglio dire bravo adesso diciamo mi devo dedicare al discorso intestinale la disbiosi la permeabilità e tutte quelle storie lì ok vi voglio dire una cosa se mi permettete dimmi in base in base alla grande scuola che ho avuto l'onore di fare con questi maestri che ho avuto ma anche insomma dalla luce di quello che diciamo da sempre bisogna stare molto attenti alla biodisponibilità assimilazione via di somministrazione dei nutrienti perché oltre soprattutto quando c'è un problema così intestinale perché non c'è niente da fare le vitamine le devi dare spray sublinguale e vedere come reagisce e tutte le altre cose secondo me oggi come oggi oltre al discorso che abbiamo fatto fino adesso bisogna considerare la via disponibilità l'assimilazione la via di somministrazione dei nutrienti perché se no non se ne esce secondo me ho capito benissimo quello che vuoi dire Giorgio perché io esco da un protocollo che ha funzionato bene per dieci anni a uno nuovo e non pensare io sto in crisi non pensare non pensare capisci? e noi siamo felici di metterti in crisi non per niente ho frequentato la scuola perché se fosse stato un altro distante io ma il protocollo funziona chi se ne frega invece ho dovuto approfondire questo discorso e grazie a voi comunque ciao Bartolo un abbraccio ciao Giorgio ciao grazie a tutti ricordatevi delle date se avete bisogno siamo a disposizione se volete fare domande sono qua ancora